La libreria Hemingway è una grande protagonista dello spazio, pensata per un modello di casa personale e originale. Si presenta con una struttura in legno massello e ripiani in vetro e può essere arricchita con elementi pensati per varie funzioni. L'elevata cura del dettaglio si nota anche dalla particolare lavorazione del ripiano in vetro.